Caos nei comuni, agli uffici tributi, caos ai centri di assistenza fiscale e caos anche negli studi dei commercialisti. Tari e Tasi tra i contribuenti comaschi continuano a regnare la confusione per la tassa sui rifiuti e quella sui servizi indivisibili. La conferma arriva dal professionista lariano Giampaolo Corti. I clienti sono spaisati in primis per gli importi, molti hanno notato infatti aumenti consistenti e poi per le procedure, ammette il commercialista. Da una parte c'è la Tari, il cui conteggio è stato effettuato direttamente dagli uffici comunali, dall'altra la Tasi che i cittadini devono calcolare da soli in base alle aliquote deliberate dalle amministrazioni e alle detrazioni previste. Proprio aliquote, detrazioni e modalità di calcolo stanno creando più di un problema, ammette Corti, i contribuenti fanno fatica a gestire tutto. Basti pensare a chi possiede più proprietà in paesi diversi e quindi si trova ad affrontare regole differenti. Insomma, in molti casi la consulenza degli esperti diventa fondamentale. Giampaolo Corti, insieme con Mauro Pellicciari del CAF Cisle di Como, risponderà ai tanti dubbi ancora in cerca di risposte lunedì 6 ottobre su ETV dalle 20.30 durante la trasmissione Caos Tasi condotta da Giorgio Civati. Si potrà intervenire in diretta chiamando il numero 031 33 00 655 oppure è già possibile scrivere una mail all'indirizzo